salve popolo di gs radio e bentrovati con una nuova puntata di forza azzurri insieme a daniel antonio battaglia alias grubantino 7 simone andreoli ciao simo ciao daniel un saluto a tutti quelli che ci stanno ascoltando se gli è rimasta un po di voce dopo questa partita esatto perché io sono a zero ci siamo salvati realmente a sette secondi dalla fine con un gol di zaccagni abbiamo pareggiato contro la croazia e siamo arrivati secondi nel girone giocheremo sabato alle ore 18 contro la svizzera ai ottavi di finale partita pessima per certi versi non per l'orgoglio che ci hanno messo gli azzurri soprattutto dopo che abbiamo subito il gol dell'uno a zero però onestamente sia croazia sia italia sono la copia sbiadita delle grandi nazionali che sono state in passato però intanto ci siamo qualificati simo cosa ne pensi allora hai detto una cosa più esatta la partita è stata giocata malissimo per motivi tattici tecnici come si può dire però primo tempo impalpabile secondo tempo soprattutto ci ha tenuto a galla donnarumma probabilmente senza di lui stasera e mi fa strano dirlo perché l'ho tanto criticato nelle nostre puntate però meno male che avevamo gigio però questa non è una nazionale che meritava il passaggio del turno almeno appunto fino all'azione del gol che poi alla fine è stata una cavalcata solitaria di calafiori che a questo punto mi dispiace che sia stato ammonito e quindi salterà la prossima partita contro la svizzera quindi è un bel colpo da subire però diciamo noi avevamo già criticato la nazionale dopo la sconfitta con la spagna e diciamo che non sono state recepite le critiche da parte nostra sicuramente però forse anche non ci hanno fatto giocare ed è stato strano vedere soprattutto dopo il gol della croazia che loro comunque continuavano a pressare alto si sono praticamente chiusi in difesa solo verso gli ultimi dieci minuti di recupero che ci ha salvato anche qui l'elevato minutaggio di recupero perché altrimenti quel gol di Zaccagni non arrivava e guarda io ormai non ho più critiche da dire a questa nazionale perché l'orgoglio ci sarebbe pure il carattere dei ragazzi c'è il problema è che non riescono a tramutare in campo questo orgoglio che che sentono perché non non piangi di felicità per una qualificazione se non hai un orgoglio di se non hai l'orgoglio di indossare questa maglia scusami quindi fa strano che non riescono appunto a mettere in campo quello che che valgono ancora una volta anche in questa partita praticamente scamacca non ha giocato anche se è partito dalla panchina le teghi ci ha provato a fare il centrale boa ma appunto i palloni non arrivavano davanti e il fatto che potevo capire e ammettere soffrire sulle fasce contro la spagna scusate un attimo simo vi chiediamo scusa ragazzi abbiamo problemi di connessione e quindi ogni tanto simo che abbiamo sentito a singhiozzo continua comunque dicevo sono solito sempre pensare che gli slavi possono in serata giusta battere chiunque in serata sbagliata perdere contro chiunque forse noi avevamo beccato la serata in cui erano praticamente invincibili solo che alla fine ci ha salvato zacca agni quindi il problema è che forse da un lato è anche meglio arrivare alla qualificazione così perché potrebbe svegliare di più ragazzi però dall'altro lato se giochi così diciamo che le ultime partite con la svizzera non hanno chiamato bellissime prestazioni della nazionale quindi affrontare loro agli ottavi di finale un po' mi preoccupa ora sta a spalletti capire come fa la partita sia tramutare l'orgoglio che hanno in qualità sul campo non aver visto diciamo una sorta di rotazione dei giocatori non dicono hanno praticamente giocato sempre gli stessi e poi dopo ci ha salvato l'orgoglio che ancora quasi non aveva messo piede in campo però non possiamo basarci sempre solo l'orgoglio della giocatori che praticamente è il nostro miglior punto però allo stesso tempo staremo parlando di tutta altra partita se solo il gol di bastoni se solo l'azione di bastoni sì infatti quel primo colpo di testa di bastoni perché in realtà nel primo tempo abbiamo avuto più occasioni noi due una con bastoni una con un tiro di pellegrini però effettivamente eravamo stati comunque noi un pochino più pericolosi nella ripresa cioè io ho visto anche frustrazione da parte di chiesa che è entrato subito dopo aver subito il gol del vantaggio della croazia perché sembrava quasi dire ragazzi io mi sbatto l'anima ma voi datemi una mano perché sembrava predicare nel deserto Simo ci sei? Simo? Ecco no scusate ok scusate ragazzi stasera non lo so ci sono problemi problemi di linea immagino perché sono tutti i tifosi della nazionale a scrivere qualcosa sui social che stanno intasando le linee eh no infatti è probabile comunque continua Simo vai quindi ora la questione è capire come affrontare questa Svizzera perché come ho detto prima le ultime partite con la Svizzera forse le abbiamo sofferte non so cosa farei forse in Spalletti se continuare a dare fiducia a questi uomini che hanno giocato queste tre partite a provare a cambiare qualcosa punto è capire appunto cosa si vuole ottenere perché non vorrei ehm questa nazionale farà farà lo stesso percorso della della nazionale degli europei del 2016 che appunto se non sbaglio uscì ai rigori agli ottavi di finale contro la Germania ovviamente sto parlando di due nazionali completamente diverse però allo stesso tempo diciamo la situazione sembra quella dobbiamo fare gol sostanzialmente Bastoni ci poteva regalare un'altra partita forse è entrata quella palla come avevo detto prima però questa nazionale deve fare gol deve trovare un modo di sbloccarsi non può arrivare un gol praticamente prima del triplice fischio dell'arbitro eh guarda più che altro è una squadra che convince molto di meno rispetto a quella che hai nominato perché come ho detto all'inizio puntata sia noi sia la Croazia eh parliamoci chiaro siamo due copie realmente sbiadite i fantasmi di quella che è stata una Croazia gagliarda degli ultimi 15 anni che è arrivata in finale mondiale ha fatto terzo posto semifinale agli europei e noi che siamo stati quattro oltre campioni del mondo siamo campioni d'Europa in carica ma onestamente onestamente cioè questa squadra fatica fatica a fare gioco e se mi permetti una battuta ti potrei dire che un appassionato no appassionato un casual che si mette su Rai 1 faccio il nome di una rete giusto così a guardare la partita alla fine degli europei se non sa niente di calcio gli unici nomi che ricorderà di questa nazionale sono i difensori più Donnarumma ed è un problema che praticamente non stiamo giocando non stiamo giocando anche il metronomo nostro del centro campo il centro campo che dovrebbe essere Giorginio praticamente anche lui impalpabile abbiamo avuto qualcosa da frattese e da rimarco nelle prime due partite e questi qui sono morti completamente quindi no eh anzi scusa inserisco allora mettiamo per per inteso che io adoro Di Marco no? ma onestamente il Di Marco di questo europeo è che già aveva giocato male nelle più amichevoli prima dell'europeo anche lui è la brutta copia di se stesso non c'entra niente con il campione che ha fatto sfracelli in senso positivo con l'Inter quest'anno cioè non lo riesce ad avanzare non affonda non tira a malapena fa due cross sbaglia sbaglia quasi tutto in difesa l'allore pesante vai l'allore pesante contro l'Albania lo doveva svegliare invece praticamente lo ha finito di buttare giù a livello di morale forse anche eh ma è una cosa cioè lui doveva essere l'uomo in più sulla sinistra come era stato come era stato oggettivamente spinazzola tre anni fa e invece di Marco che mi dava tante sicurezze perché ripeto per me di Marco è fortissimo e invece ora non lo so io mi auguro che lui Giorginho Scamacca di Lorenzo si sveglino come successe Roberto Baggio nel mondiale del 94 quando dopo tre partite così così molto deludenti si svegliò durante gli ottavi di finale alla fine contro la Nigeria e da lì rischiò addirittura di vincersi la Scarpadora la Scarpadora ci trascinò fino ai alla finale poi forse i rigori contro il Brasile ma voglio dire perché oggettivamente la squadra tanti dei nostri sono sotto tono e chiaramente l'impegno che ci hanno messo quello non si mette in discussione perché quello c'è quello c'è c'è stato sempre anche se avessimo perso lo sforzo lo sforzo dei nostri ragazzi c'è stato sempre però oggettivamente è una situazione difficile cioè stiamo giocando male e molti dei nostri stanno mancando proprio stanno mancando sono cioè non possiamo dire è perché tanto meglio di così non sanno giocare no la speranza però è questa proprio perché sappiamo che tanti dei nostri sanno giocare molto meglio di come stiamo giocando quest'anno cioè sia contro la Spagna sia oggi sembrava che non si allenino insieme niente schemi a chi passo la palla boh non lo so forse attenzio boh no vabbè passiamola sempre a Donna Roma facciamo un'azione un break azione di contropiede no ma invece di passarla a reteghi o scamacchi in avanti passiamo alla Donna Roma cioè ragazzi siamo tutto l'assalto finale ha dimostrato che praticamente è come se non ci fossero schemi tra di loro comunque mancanza di intesa ed è strano ed è strano perché tante nazionali nostre si sono basate sul fare il gruppo dove il gruppo riesce anche a sopprimere a determinate mancanze esatto quindi come ti ho detto ora vedremo contro la Svizzera come andrà diciamo che abbiamo qualche conto in sospeso con la Svizzera c'è eh sì comunque la Svizzera è una squadra abbastanza quadrata ora non so quanto di risera il pareggio con la Germania di affacciare realmente testo perché la Germania chiaramente era tranquilla di passare comunque quindi ha giocato un po' diciamo in sopplass diciamo così però ecco certo almeno ci siamo evitati Portogallo e qual era l'altra nazionale che potevamo beccare da migliore a terza e lì dipende ora come andranno le cose avanti perché ancora ci possono essere sorprese potevamo anche beccare mi pare potessimo beccarci la Francia se fossimo stati ripescati come terza quindi in base a che posizione del ripescaggio anche quindi cioè ci è andata ci è andata veramente bene così ragazzi veramente bene però ecco questa nazionale si deve svegliare io non do la colpa né a loro né a Spelletti perché ripeto Spelletti ha avuto in realtà poco tempo per lavorare su questa squadra però cioè chiaramente l'impegno si è visto anche perché altrimenti non avremmo segnato all'ultimo secondo e ripeto l'impegno c'era anche se avessimo perso d'accordo perché quello cioè il fatto di giocare male non significa che i ragazzi in campo non si stanno impegnando però c'è qualcosa che deve anzi ci sono più cose che devono essere messe a posto al più presto altrimenti si esce con la Svizzera perché la Svizzera comunque è una squadra compatta che ha dimostrato di avere un gioco solido e se giochiamo così c'è perdiamo con la Svizzera io chiaramente possiamo divertire gli europei poi ovviamente dovesse arrivare la vittoria dell'europeo con un gol così all'ultimo secondo per carità saremo i primi a risultare però però probabilmente si potrebbe anche piazzare poi questo europeo vinto nella cartella fallimento se dovesse arrivare così perché non hai dimostrato niente sostanzialmente intanto vinciamolo nel caso quello sicuramente poi come catalogarlo cavoli nostri voglio dire anche nel io ho citato il mondiale del 94 dell'Italia ma anche il mondiale che abbiamo vinto nell'82 siamo passati come ripescate avevamo fatto tre pareggi giocavamo malissimo qui ci siamo svegliati di colpo abbiamo cominciato a bastonare Argentina Brasile Polonia e Germania distrutta in finale voglio dire poi la stessa Argentina che giocando malissimo nel 90 passò per come ripescata mi pare o per differenza rete arrivò seconda nel girone e poi arrivò in finale semplicemente vincendo le partite a rigori tra cui contro di noi a Napoli cioè eppure era una squadra che giocava malissimo e poi perse la finale solo per un a zero a pochi minuti dalla fine con un rigore di Andreas Bremer in favore della Germania quindi voglio dire ci sta anche il fatto di giocare male e poter andare avanti perché è capitato a tante squadre adesso per questa per questa puntata direi che è tutto perché in realtà c'è poco da dire oltre al miracolo di Donnarumma su Modric agli ennesimi errori difensivi ha la voglia però di restare ancora vivi con il gol di Zaccagni adesso voliamo agli ottavi affronteremo la Svizzera sarà una partita dura tre anni fa avrei detto che saremmo partiti estremamente favoriti ma qual era un'altra Italia questa questa soffre rischia speriamo che vada tutto bene sempre forza azzurri ragazzi io vi ricordo anche le altre trasmissioni di GS Radio soprattutto Formula One After Race è in onda la puntata del Gran Premio di Spagna dove purtroppo ci ha fatto soffrire ancora la Ferrari quindi ragazzi in questo giugno si soffre a quanto pare però forza azzurri non solo per il caldo esatto comunque forza azzurri e adesso andiamoci a giocare tutto contro la Svizzera agli ottavi ciao 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 ciao